Riuscite a soddisfare il fabbisogno raccomandato di nutrienti ogni giorno? Salve, sono Susan Bowerman, responsabile della formazione nutrizionale Herbalife. Parliamo dell'importanza di leggere le etichette nutrizionali dei cibi. È una delle cose più importanti che potete fare per capire esattamente cosa c'è in quello che mangiate e quale valore nutrizionale fornisce. La cosa principale da fare è leggere la quantità ed il numero di porzioni per confezione. Molte persone pensano che i valori nutrizionali si riferiscano all'intera confezione, ma non è sempre così. Spesso le porzioni indicate sono inferiori rispetto a quelle che effettivamente si consumano. Quindi tenete presente che ci sono due porzioni in una confezione. E se si intende mangiare tutta la confezione, è necessario raddoppiare le dosi indicate degli zuccheri, dei carboidrati e delle calorie indicate sull'etichetta dei valori nutrizionali per capire effettivamente quello che state consumando. Dovreste guardare le etichette di ogni singolo prodotto. Non pensate che un cibo sia sano solo perché ha uno slogan a salutare nella parte anteriore della confezione. I valori indicati nelle etichette sono utili per confrontare i valori nutrizionali e questo vi aiuterà a capire se un alimento è sano e nutriente. Quindi cosa dobbiamo guardare? Se il prodotto è integrale, dobbiamo cercare il valore delle proteine, delle fibre e dei carboidrati. In teoria cerchiamo cibi con meno calorie, grassi e zuccheri, ma c'è molto di più. Possiamo mettere in pratica tutti i consigli che abbiamo imparato finora. Per esempio, quando abbiamo parlato dei carboidrati, avete imparato che invece di guardare solo il totale dei carboidrati, bisogna tenere sotto controllo anche le fibre. Invece di controllare il totale dei grassi, suggerisco di controllare anche le calorie provenienti dai macronutrienti e di ricordare che c'è una grande differenza tra i vari tipi di grassi. Non controllate solo il livello dello zucchero. Guardate tra tutti gli ingredienti per cercare ulteriori dolcificanti, tenendo presente che zuccheri naturali come il miele fanno molto bene. So che leggere le etichette è difficile e a volte non ne abbiamo neanche il tempo. Ma se si prendono in considerazione questi suggerimenti, inizierete a capire di più sui cibi. Un modo pratico e sano per essere certi di cosa vi state mangiando è usare i prodotti Herbalife. Il frullato Formula 1 contiene un equilibrio di nutrienti per garantire un apporto bilanciato di vitamine, minerali e altri nutrienti in modo gustoso. Non mi credete? Leggete l'etichetta! Voglio darvi un ultimo consiglio. Se state per affrontare un allenamento, prendete Herbalife 24 CR 7 Drive, che favorisce la resistenza e migliora l'assorbimento idrico durante l'esercizio. Sono Susan Bowerman, ricordatevi di gestire la vostra nutrizione con intelligenza.